In occasione del quarantesimo anniversario della proclamazione dei Santi Cirillo e Metodio, co-patroni di Europa, assieme a San Benedetto, vorrei esprimere i miei più cordiali auguri. La missione dei Santi Cirillo e Metodio rappresenta per i popoli slavi la prodo a una nuova consapevolezza della propria cultura, in qualche modo l'ingresso stesso nella cultura attraverso la lingua scritta appena sorta. Essi misero per iscritto quella lingua parlata, la espressero con i segni della scrittura e in questa forma la tramandarono a coloro dai quali l'avevano prima ricevuta in affidamento. Il Vangelo cominciò ad essere espresso nella lingua slava scritta. A Velerat, nella Grande Moravia, nel cuore dell'Europa, i fratelli di Salonico portarono la tradizione greca e bizantina, cercando ed ottenendo il riconoscimento dei testi liturgici in lingua slava ed è la loro missione della Chiesa di Roma. I Santi Cirillo e Metodio, Venerati in Occidente ed in Oriente, sono per tutti testimoni di quell'unità indivisa all'esorcente, capace di tenere insieme le differenze. La loro vita ci sia di ispirazione per cammini di unità e la loro intercessione ce la ottenga.